bella a tutti ragazzi benvenuto benvenuti nel mio canale si chiama tvgamerity oggi faremo un video sull'ascia royal io sono in arena 7 sono già un po portato avanti perché ci sto pensando se fare un canale youtube perché ho gli impegni trasporto e scuola e non lo so adesso mi dici ecco io a volte mi fa via connessione vediamo non ho molti pauli su un arena 8 il buio del clan non già completato teniamo un po se volete potete entrare in questo clan black hole però il problema che siamo già in 50 perché sono già in tanti e non so se riuscite a entrare comunque vi avviserò un video se sarà libero se vedo che questo clan va male ne credo io e abbiamo questi due buoni maggio un buon argento oro 48 di oro e c'era una campana dei barbari e 8 porta di scherri maggio 71 unità di oro due gemme una sfera infuocata esca nove scarica la scarica mi serve questo è di piccolo andiamo con secondo allora 77 unità di oro una torre infernale che mi serve perché ho creato un nuovo deck e una tesla e cade la connessione e perché mica la connessione il server fa uno schifo alla mattina a questo quando è che se volete ricopiarlo a me mi ha accompagnato dall'arena 6 dall'arena 6 dall'arena 6 fino a qua ci sono salite già due volte il mio record di trofei se non sbaglio aspettate e 6200 non sto dicendo il risultato dicendo dovrei maggiori 2356 a 179 gemme 310 di oro il livello 9 sono scogliate se volete copiarlo va bene andiamo a fare due partitine allora alziamo un po' volume ah non è vero che ho già attivato la musica e effetti sonori allora aspettiamo che fa lui per la prima mossa scheletro gigante con la principessa è molto male se non viaggio qua non ho preso scheletrini ok sono dispeso abbastanza bene per adesso le scelte che tirate lì spaventose quello assieme a buttare l'oltre gli scheletrini io la zap però purtroppo non è tirano neanche se lavoro una it e ha tirato ma come avete visto con quale già tre carte strano di ghiaccio o due carte con gli scherzi lo strano di ghiaccio mi sono difeso e quello adesso che è lì 3 allora cavolo una fa fa paura quello votiamo di qualcuno le adesso di avrata guarda bianni le leite che tirano vabbè leite che tirano che tirano e tirano anche io e delhi belle dure buttiamo qua il suo bello magro di accio ecco lo sapevo ecco la non doveva mancarci ci passa ma cavolo cavolo guarda la leite spaventose io ho fatto la torre ragazzi mettiamo di qua i barri scelti questo o cavolo no non facciamoci intimorire da purtroppo devo sprecare il mio moscaiello per difendermi mettiamo il tronco siamo costa acqua è purtroppo non mi ha salvato però forse ragazzi ci riesco ho vinto no questo no non ci mancava ok abbiamo vinto due corone bella partita diciamo bella partita con il pollice su un bolle d'argento ho preso e anche vuole della corona tengo il buone della corona per farci uno spacchettamento c'è un'altra e l'accesso ma dai ma perché fanno così server allora poi allora aspettiamo che faccia lui la prima mossa come sempre allora lui butta la strega ho dovuto farlo sceltico dietro questo tanto ho anche allora bella mossa ho fatto due belle mosse facciamo spaventare da o cavolo ma c'è da spaventarsi bravo sono le scritte lini ne ha sprecato no fire ok sono sicuro che faccia la torre la sicuro che la torre la mia mia torre la no purtroppo no vabbè e contattiamoci dritte che abbiamo fatto no adesso li fermiamo col mega scarro la e buttiamoli i barbolicetti di qua perché sono sicuro di buttagli raggiù hanno rotto ecco allora lo sapevo io che buttava la qualche idea cavolo mi sembra che mi fa la torre no per fortuna no però abbiamo più o meno la vita della torre uguale questo mi ha fatto anche delle pelle anche io ancora allora allora lui ho fatto quella mossa ok la torre no come che sfortuna adesso ecco eccola è solo mi ha fatto la torre perché va via la connessione ascoltiamo qua nostro bella a razzo sto qua abbiamo lasciato ben poco ecco lo sapevo era probabile ok ci vedo tutto è dura qua grazie molto dura mi sembra che la perdiamo sembra che sì forse no eh sì la perdiamo ragazzi sicuro forse io forse la pareggiamo ma possiamo pareggiare ragazzi non ce la fa la pareggiamo ragazzi l'abbiamo pareggiata ve l'ho portata anche questa davvero un soffio e perdevo va bene ragazzi io vi saluto mettete un pollice in su al video commentate iscrivetevi e bella ragazzi conti Grazie.